Ho visto il polipo uno a mia sorella e uno a Claudio, vedete, non voleva ricciare, però è pure lui stesso, e a me questo polipo doc, bello, chiamo Trapik, sono i 10 e un quarto, Trapik ma fa buona parità, Trapik ma fa buona parità, buongiorno a tutti e di nuovo buona domenica a tutti. Giamme da, ballo, e ciò, come in, va, E come vi avevo detto Un po' di Anche l'acqua era buono, saporito. Quello che ho visto con la famiglia era quello di Nikon. Era buono, saporito, solo che non ha ricciato a calco perché guardate qui l'occhio c'è in mezzo, l'occhio, la bocca. Lì è stata tolta la bocca e non la ricciava. Poi era buono lo stesso, arrivi in crudo, facendo da lei. Buono, vediamo.